buongiorno benvenuti a questa resegna stampa di oggi venerdì 10 febbraio allora sì certo oggi sui giornali ci sono le questioni che riguardano la politica anzi verrebbe da dire che le prime pagine dei giornali sono dedicate alla politica gentiloni al pd all'intervista di gentiloni sulla stampa tutte robe noiosissime che io vi sconsiglio proprio di lasciare perdere la sentenza di 100 e di 100 pagine della corte costituzionale sulle motivazioni della bocciatura della della legge elettorale tra poco ne parleremo ma parliamo delle cose che a me sono diciamo divertì anzi parliamone ora insomma così ce la togliamo dalle balle la politica la cosa fondamentale è che renzi e il pd è nel casino più totale oggi l'unico pezzo interessante secondo me sulla vicenda è quello di angelo panebianco sul corriere della sera che dice il fatto è che stiamo andando a proporzionale porterà il pd a una scissione dietro l'altra perché il proporzionale permette a tutti quante le componenti di avere la loro rappresentanza parlamentare quindi proporzionale vuol dire scissioni mentre invece maggioritario vuol dire aggregazioni semplifico il pezzo di panebianco ma la sintesi di quello che dice panebianco è questo sul fronte poi della politica renzi sarebbe stato per la prima volta contro gentiloni da quando è diventato presidente del consiglio perché si sarebbe opposto alle tasse che gentiloni sta per mettere oggi sul giornale si vede chiaramente che le tasse che sta per mettere e sono quelle sulle accise della benzina la solita recupero delle tasse in italia c'è anche da dire verrebbe da rispondere a renzi che il conticino da 3,4 miliardi l'ha lasciato lui e non babbo natale e quindi in qualche maniera dovrà con tutte le sue mancette elettorali del tutto inutili che ha fatto nel suo passato governo renzi sarebbe pronto a dimettersi prima del congresso del pd questa è una mossa per la quale può accelerare il congresso del pd e quindi le elezioni ragazzi il pd è un casino vi dico che ci sono cose pazzesche i giovani turchi io manco bene so chi siano orfini e compagnia cantante che prima votano un documento per andare a fare il congresso quindi le elezioni presto poi non lo votano poi dopo lo cambiano firmano due documenti diversi sembra un mio amico sergio scalpelli l'unico che ho visto nella mia vita votare per due persone due candidati insieme detto con affetto nei confronti di sergio i giovani turchi che cambiano idea orlando che dice che il congresso non è una priorità e che cosa è una priorità calenda che era il tecnico che dice che lo spread sale lo dice insieme a d'alema ragazzi il sinistra pd è un disastro secondo me quello la sinistra pd pd è un disastro e quello che dice pane bianco oggi è chiaro che con la legge proporzionale è un aprirsi delle gabbie pensate un po voi oggi sono due questioni politiche che vi segnalo la prima è quella del fallimento del sindaco di genova doria che non si ricandida più c'è una bella intervista oggi è stato mi sembra sul corriere della sera o su repubblica è stato votato dal pd dall'italia dei valori e da sell cioè da tre partiti che spostano a sinistra la coalizione pensate un po voi doria il professore rosso cade perché non gli votano in giunta la fusione tra due municipalizzate di cui una praticamente fallita cioè tutti ci stanno rompendo le balle troppe municipalizzate troppe aziende pubbliche quanti consigli di amministrazione quanto poltrone quando un sindaco di sinistra prova a metterla insieme la stessa sua maggioranza di sinistra non ci sta non ci sta e quindi fa saltare il sindaco che dice mollo tutto vi ricordate gli arancioni che dovevano fare il fenomeno dell'italia che dovevano cambiarla insomma non è che sono finiti benissimo anche se pisapia la sua esperienza l'ha finita dopo due mandati e oggi un'intervista al collega della sera dice facciamo un nuovo partito di sinistra ecco facciamo un nuovo partito di sinistra bene andiamo avanti su le cose che invece a me oggi sono divertite molto di più le cose che mi sono molto divertite oggi sono la questione dell'università di bologna e lì ci sono i comunisti i giovani comunisti sono dei delinquenti quelli che occupano io ho questa percezione chiarissima sin da quando andava all'università che prevaricano con la violenza a chi non vuole occupare il rettore di bologna avendo aperto una biblioteca fino a mezzanotte io quando andavo all'università la mia biblioteca chiudeva alle 6 sera alla sapienza a roma l'idea che una biblioteca possa chiudere a mezzanotte mi sembra una cosa straordinaria per lo studio bene chiudeva a mezzanotte ma obbliga dei tornelli all'ingresso per le entrate e le uscite vorrei comunicare agli studenti che i tornelli ai collettivi di sinistra sono purtroppo una caratteristica della nostra società del lavoro dove loro non entreranno mai ma nella società del lavoro beggiare purtroppo questo orrendo termine per cui si indica che ora si entra che ora si esce in questa società esiste e i tornelli pur di avere l'università aperta fino a mezzanotte è un prezzo che si può pagare tra l'altro neanche così elevato per loro era così elevato sapete che cosa fanno una mozione una lettera al giornale occupano l'università nella loro biblioteca e sapete che cosa fa il rettore bravissimo francesco ubertini il rettore dice poliziotti sgomberate in un paese normale non si occupano le gli spazi pubblici questo è i comunisti invece sono evidentemente abituati alla rivoluzione degli anni 70 del 77 quella rivoluzione la dobbiamo evitare in tutti i modi la digos ha fatto bene a entrare e a sgomberare la biblioteca siete d'accordo non me ne frega niente io su questo non transigo non transigo e poi fate legalità legalità onestà onestà questi comunisti non essere presi a calci nel culo non si occupa un bene pubblico facendo finta che sia la libertà della cultura qual è il criterio qual è il criterio qual è il criterio i collettivi che sfondano e poi dopo non contenti aver sfondato aver distrutto un bene pubblico perché hanno preso le sedie le schivanie lanciate contro contro la polizia vorrei vedere se uno di questi è stato arrestato questi devono essere arrestati sono andati fuori a far casino 500 studenti contro la polizia benissimo bravo al rettore spero che tenga dritto è la stessa università in cui avevano impedito di fare lezione al professor angelo panebianco è questo è la libertà che i comunisti dei collettivi comunisti non fascisti comunisti hanno nei confronti di chi non la pensa come loro come pane bianco ce l'ho molto con loro sì perché sulla mia pelle ne ho subite di queste violenze quando andavo alla sapienza brava fulvia stima per il rettore è un'altra notizia che oggi questa cosa della ecco grazie a loro ho saltato un esame uno di voi dice grazie a loro ho saltato un esame grazie a te che ce l'hai ricordato perché ci sono studenti che non la pensano come quei cretini dei collettivi perfetto voglio ricordarvi un'altra cosa che io la trovo incredibile incredibile oggi anche questa la leggo soltanto sul sul giornale e c'è in realtà uno specchiettino una foto notizia anche su come si argento il che sarebbe indifferente perché sarebbe una qualsiasi una piscuana qualsiasi però prende il suo iphone del suo il suo telefonino e fotografa giorgia meloni che stava mangiando e nella sua scritta su twitter dice che è una lardosa che è una schiena lardosa una ricca che mangia alle nostre spalle e poi le da della fascista allora è tutto bene insomma tutto bene il gusto nei tweet figuratevi un po voi io sono abituato anche qua su facebook che mi si scrive di tutto no i troll sono la nostra compagnia continua ma si può dare della fascista lardosa a una donna che appena partorito come la la meloni e il giorno dopo far finta sui giornali tranne il meritorio giornale con la valeria braghieri neanche commentarlo se fosse successo alla boldrini e se a dire che lei era una una lardosa fosse stato un intellettuale sua disondi destra o un attore di centrodestra che cosa sarebbe successo se avessero dato della lardosa dopo che a una a una a un esponente della sinistra e ancora mi chiedo è giusto che una giornalista che asia argento sia il volto di una trasmissione di rai 3 a me che mi avrebbero fatto se avessi fatto una cosa di questo tipo quando conduceva un programma in rai avessi dato alla boldrini con un tweet un insulto qualcuno non mi avrebbe preso per l'orecchio allora daria bignardi tu che c'hai la grande capacità di fare uno spettacolo straordinario come presunto innocente forse prima di esercita un po il tuo direttore il tuo il tuo la tua capacità di direttore cioè non è un una figura forse tra le migliori quella che fa come si chiama amori criminali si chiama il suo programma che faceva barbare de rossi affidata alla asia argento che va in giro ad insultare donne per la loro lardo a me va tutto bene però allora liberi tutti liberi tutti possiamo fare quello che ci pare possiamo dire quello che ci pare e mi ricordo che non potevo fare questo perché si diceva che si lavorava in un servizio pubblico bene oggi è la giornata dell'evasione fiscale nel senso che ha dato i numeri sul recupero dell'evasione fiscale 2016 i numeri dicono 19 miliardi oggi un grande grande applauso al sole 24 ore a salvatore padura il sole 24 ore si è ricordato di essere solo 24 ore e smonta questo record dell'evasione fiscale dice intanto c'è la volontà di disclosure che sarebbe rientro dei capitali all'estero che vale 4 4 miliardi e mezzo e questi soldi fanno sì che il recupero dell'evasione è inferiore a quello dell'anno precedente quindi non suonate troppo le trombe dice padula ma l'altra cosa che dice sacro santa è questa immagine del fisco amico che ci vuole vendere la orlandi e che vedrete intervistato dal corriere della sera come se fosse una specie di eroina del fisco amico beh dice padula sul sole 24 ore mando sta ma chiunque di noi sa che il fisco è amico amico un corno un corno va bene allora questo pezzo di salvatore della padula mi rimette in come posso dire in amore nei confronti del sole 24 ore che ogni tanto che ogni tanto riprende la sua verve di giornale da di mercato poi un piccolo dettaglio tanto per chiudere la vicenda con questo 19 miliardi di entrate le entrate fiscali nel 2016 sono state pari a 450 miliardi di euro cioè i soldi che da noi sono arrivati a il allo stato 450 miliardi sapete quanto era l'anno precedente 436 il che vuol dire che che l'unico dato che conta che la pressione tributaria è aumentata di 14 miliardi sugli italiani chiaro da un anno all'altro grazie a renzi grazie all'evasione fiscale che non c'è più grazie a quello che volete voi 14 miliardi di euro in più di introiti per lo stato allora insomma stiamoci attenti a dire che che si è ridotta la pressione fiscale quello che conta sono i soldini che entrano veramente nelle casse lo stato l'ultima questione perché su questo sono ragioni i miei amici lascia perdere la raggi lei dovrebbe non bisogna fare come si è fatto con berlusconi tutti contro berlusconi che continuava a guadagnare percorsi giornaloni non contano nulla nell'uccidere i personaggi politici che non amo la raggi si uccide da sola non facendo nulla a roma però una cosa fatemela dire oggi l'amaca in quel posto assurdo in cui viene posizionata in prima pagina dice e con un artificio retorico chi le si achille serra michele serra che questa raggi è in realtà è il figlio della destra romana io però oggi stavo pensando e lo pensavo leggendo il pezzo di travaglio che ovviamente si occupa della raggi anche lui è monotematico è ma possibile ma possibile che questa raggi tutti dicono rizzo su quelle della sera amaca e l'amaca di tutti dicono la raggi fa male ma perché c'è un po di destra dentro che l'inquina ma berdini l'assessore all'urbanistica con cui è litigato da dove viene dei comunisti comunisti bergamo l'uomo alla cultura da dove viene dalla sinistra la muraro quella che si occupava dei rifiuti da cui da dove viene dalla sinistra la raggi cosa votava la sinistra ma perché ma perché in italia se non funziona qualcosa è sempre colpa di un inquinamento che arriva da destra questo è il solito pregiudizio che sia in questo paese di vase argento e il suo lardo perché lei si con gli amori criminali si può permettere di dare della lardosa a una politica italiana e nessuno grida al sessismo è questa l'italia che ci piace no ciao